Ce la faranno i nostri eroi? Ce la faranno? Sempre la solita storia, uno lavora gli altri guardano. Sembra di essere Alanis. C'è Kim, ci deve essere lo stratega. Giornata tipica, cioè ovvero che le buschiamo. Tutte due. Per me è molto normale. Ma di cosa parliamo oggi? Parliamo dell'oreggio. Il primo giorno per noi. Ciao a Mr. Brown. Il pen... Il clave è sul tante. C'è più la staccata? No, io sono buono dopo queste cose. Quistina è corte, prima, seconda e folle. Perfetto per me. No, però ti ho visto più deciso. Per fortuna non c'è il bianco, ragazzi. App revede, si vence con le thene. Angli Dante le code e bianco. Quindi Snapchat è al delay di jaglio. Grazie a tutti E siamo qua, ci stiamo divertendo, vi aspettiamo Grazie a tutti Amici del vlog, oggi parliamo di linee A tavola facciamo il piano per chi va avanti e chi va dietro ma biancolini di bastona duri duri Non è venuto a girare per mesi, è tornato nel lento e nel veloce, il bianco è più feroce Ragazzi, lezione di caduta oggi E abbiamo un allievo esperto L'allievo che ha provato, esperto so io Quando devi cadere invece di cadere di faccia, al momento del contatto ravvicinato con asfalto Devi riuscire Devi avvicinare e prendere sul dorso e sulla chiappa Che sono i punti più forti Io non ci sono mai riusciti Poi Dopo l'Isaid passiamo alla scivolata Chiusa davanti al curvone di Misano in sesta Chiusa davanti, importantissimo per non si rompere la clavicola Perché quando ti chiudi fai questo Quindi clavicola e testa, trauma cranico e frattura alla clavicola Basta uscire leggermente con il braccio interna della moto, spostarlo leggermente e ti salvi Poi se stai scivolando di schiena cosa fai? Se stai scivolando di schiena Gambe e braccia aperte per non rotolare Per non rotolare quando ti impunti nella ghiaia Tac, chiuso come... Dicavo, neanche gli applausi, niente Grazie Facciato di Isaid al curvone di Misano Quando sei in aria, se hai tempo fai il segno dell'altra Io l'ho fatto, io lo so Io l'ho fatto anche violentissimo Poi dopo prova a sbattere forte A vedere se prendi il volo Ma quindi com'è andata? Te l'hanno buscata anche oggi come al solito Te c'è poco da ridere perché mi hai dato meno di un secondo Anche pomposo Quando prendi meno di un secondo e mezzo C'è solo sei curvo È vero? Cosa? Cosa che hai detto? Poi l'argo non fa curvo, sono 14 curvo Vai girare a Castelletto Vabbè, oh Il nana ha vinto la giornata Uno non l'ha sdraiata Quindi è un miracolo Esatto Poi è la prima volta che vengo qua Poi è la prima volta che guido questa moto Dopo sei mesi e non salgo sulla moto No, no Ragazzi ma poi da tre anni fa cinquatt'anni